Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Animal Protection, Animalisti Italiani, Lega, Antivivisezioniste e l'Associazione Amici degli Animali chiedono chiarezza su quanto fatto finora. E' un concreto impegno per tutelare i felini ancora presenti nell'ex manicomio Terramano. Lo slogan Tutele e legalità che verrà usato nel sit-in in programma per domenica 19 maggio è addetta dell'Associazione per ricordare al sindaco Gian Guido D'Alberto le proprie responsabilità. Gli animalisti denunciano il fatto che oramai da giorni ci sono colonie feline intrappolate all'interno dell'ex manicomio, l'imponente struttura che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e che avrebbe dovuto comportare il trasferimento di tutti i felini in un altro sito. Se così dovesse essere i gatti sono oramai da diverso tempo senza cibo ed acqua e quindi destinati a morire. Purtroppo sì, questa mattina l'hai visto anche due, hai fatto una ripresa da questo minimo foro che abbiamo e gli animali sono all'interno. Allora noi non vogliamo fare né un'azione istituzionista né niente di brutto, vogliamo semplicemente dire al sindaco e al rettore che gli animali sono all'interno, li vorremmo alimentare, tornare ad alimentarli in maniera idonea. Se ci potessero gentilmente riaprire il sito in via del Baluardo 3 che è sempre stato un sito messo in sicurezza, provvederà alla cattura e spostarli nel sito dove il sindaco riterrà opportuno, sterilizzati ovviamente. Questo chiediamo, niente di più, di poterli alimentare perché sono chiusi qui all'interno e da quattro giorni questi animali non mangiano perché non hanno accesso all'altra parte dell'ala. Quindi chiediamo anche di poter avere un contraddittorio, di poter entrare anche noi associazioni con il rettore e il sindaco all'interno della struttura, senza magari giornalisti, fra di noi e vedere se realmente questi animali possono andare dall'altra parte. Perché ci sono fatti discordanti che attestano che gli animali possono andare di là. Allora noi chiediamo solo questo, di poterli alimentare in maniera idonea, di poterli sterilizzare, spostare in un sito idoneo, tutto qui. E di poter fare avere un contraddittorio, cioè di entrare dentro e di poter vedere anche noi con i nostri occhi che gli animali possono andare dall'altra parte. Magari ci tranquillizziamo. E proprio per dare risalto al problema avete organizzato un sit-in per la mattinata di domenica? Sì, tutte le associazioni insieme hanno organizzato un sit-in che avrà luogo domenica 19 alle 11.30 da Piazzale San Francesco, lì è il ritrovo. Poi ci dislocheremo lungo la città. Porta il nome della legalità a favore degli animali rinchiusi qui nel manicomio e speriamo sortisca un effetto positivo.